Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Perù nella regione di Ica, facendo spaventare la popolazione al punto da farla scendere in strada. La scossa, registrata le 15.22 di ieri, ha avuto un epicentro a 111 km a sud-ovest di Ica e una profondità di 29 km. Non sono stati registrati danni a cose o persone.